Buonasera Abruzzo, le notizie dall'Aquila e dalla regione di oggi giovedì 11 febbraio 2021. Abruzzo verso l'Arancione, RT superiore a 1. La zona arancione dovrebbe scattare da domenica, dovrebbe, perché i ristoratori sono realmente appesi ad un'ordinanza, solo il ministro deciderà se si lavorerà a San Valentino o no. Casa dello studente, parte l'istruttoria della causa civile, ascoltati dopo 12 anni, 4 sopravvissuti. Attivato il sistema di videosorveglianza formato da 52 telecamere, centro storico e parco del sole videocontrollati. Dispersi sul velino, grazie al bel tempo i soccorritori tornano in quota, ma nel weekend torna il maltempo. Oggi l'ultimo saluto a Franco Marini, il ricordo di Bernardo Mazzocca, quella sfida dei vini nella sede degli Alpini di Bariciano con Mattarella e Di Liberto. Per tutte le altre notizie e gli approfondimenti il sito è www.ilcapoluogo.it. Buona serata dalla redazione.